Ciao a tutti ragazzi, sono Ander e benvenuti in questo semplice di survival games Siamo qua nella mappa Brisbane 2 Che ho vinto tipo Un po' di tempo fa e appena incomincio a registrare Il cane incomincia ad abbagliare Perfetto, lo sentite dietro di me Cioè dietro di me che cazzo Cioè nel senso lo sentite Oh muori E niente, speriamo di trovare le ceste Bagghiamoci, ma si che bello Sono davvero desolato Che negli ultimi tempi Non sto caricando video Delle survival games È una settimana che non carico video Delle SG Però non posso, cioè semplicemente non riesco a trovare una partita decente Magari Vi ho abituato troppo bene Cioè nel senso, mi sono abituato troppo bene a vincere sempre Spero di fare Almeno tipo Una partita dove arrivo al deathmatch Ma proprio non riesco, cioè non ne trovo una Dove vado al deathmatch Tu sei stronza Perché tu c'hai un'arma, lo so T'ho visto prima Quindi io vado su E devo prendere un'arma Cosa fai là? Questo qua Trovate, io mi butto in mare e me ne vado Ciao M'ha visto? Non m'ha visto, perfetto Ho anche un'armatura C'ho anche un pezzo di ferro con Uno stick Vabbè Basta che non mi vede quello Perfetto Non penso sia molto Esperato di Minecraft Perché mi sembra abbastanza noob Però ho paura che quella Che la noob con la spada mi kill Perfetto Ovviamente ho usato il femminile Perché mi sembra una skin femminile E non trovo ceste Vero? No, non le trovo Proprio De Cioè Potrei usare un bug glitching Dei blocchi Cosa? Un bug glitching? Un block bug Vabbè, quello lì insomma Però non la voglio Anche perché sarebbe scorretto In realtà lo fanno tutti Quindi comunque non è scorretto Se lo fanno tutti Però Ehm Niente Allora Bisogna trovare Veramente le ceste Perché E un'arma Una cazzo di arma Perché senza armi Non vado da nessuna parte Oh Ti prego Ehm Sì Va bene Cioè Non era Esattamente questa L'arma che mi aspettavo Però Tecnicamente Mi ha dato il materiale Per un'arma E anche forte Quindi ora Andiamo allo spawn Magari Se mi andai Una Una provvisore Sono contento Sai Cioè Almeno Mi parlo un attimo Il culo Cioè Non Non è che Dici Dei Diamo un'arma A provvisore Ah Ed è che Sto facendo un video No Fotti Te la devi sudare Oh Attenzione Paracurman For Pro Paracurman Dieci Tributi Ma magari anche una crafting table Qua vicino Perché sai Tornare allo spawn Mi secca Allora Io Devo trovare Una Crafting table Un'arma Un'arma Ti prego Allora Andiamo allo spawn E basta Allora Prendiamo quella chest Lì Che Non so perché Ho l'aria Che si attrappola Allora Andiamo a vedere Tanto è vuota Infatti Ehm Niente Torniamo la spawn E basta Non c'è altra Alternativa Calmi 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 Perfetto Ora però Il problema Allo spawn Chi c'è Perché se c'è Tanta gente Qua hanno già preso Uh Aspetta 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 Fermo Fermo Hanno già preso Oh Cristo Via 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 Ti prego Non venire qua Aspetta Lo spawn Dove Dai che cazzo Che posso farmi Una spawn Di ferro E non riesco Ah Ecco Lo spawn Perfetto Uh Che cazzo è Tutto sto ben di dio Qua Lasciato A marcire Dai ti prego Ti prego No vedo due nomi Via scappiamo Vedo due nomi Via scappiamo Via scappiamo Via scappiamo Cinque tributi rimanenti Bisogna capire Bisogna farsi La craft Bisogna farsi la spada Bisogna farsi la spada Appunto Dai forza Dai che Ce la faccio Calmi Ok vedo un nome Che sta lontana Ok Ora sono shiftato Non dovrebbero vedermi Ok vai 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 perfetto 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 Fuori Scappiamo 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 Ora abbiamo anche un iron sword Che è un vantaggio molto alto Molto alto Molto buono Perché comunque Vi ricordo che questa mappa è abbastanza Scarsa per quanto riguarda le chest Quindi comunque Le armature sono più o meno tutte Insomma scarse Quindi non Utdio C'è un tizio là Io vado a killarlo Mi dispiace ma c'ho voglia Perché una persona in meno E' meglio Ma che cazzo di pro che sono col parkour Dove è andato Dove è andato No 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 Sì 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 Ok chiedato Chiedato Calmi 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 Mamma mia Che cazzo è successo Mamma mia Che cazzo è successo Ok però abbiamo Oddio oddio che culo Guardate ragazzi Siamo messi benissimo ragazzi Può sembrare Può sembrare Strano Ma è così Perché abbiamo Un'armatura Che è scarsa Però vi ricordo Che tutte hanno questa armatura A meno che non Minchia se erano c'è strappo Non mi incazzavo A meno che Insomma non è Non c'era qualche cesta Segreta cozzo Via 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 No no t'ho visto T'ho visto T'ho visto Qualche cesta Segreta Ok Stiamo calmi ragazzi Stiamo calmi Quasi quasi Mi posso fare Sì Ok Perfetto Non mi ricordo mai Come si fanno Ok 40 frecce Sembrano buone E cioè Tutte hanno la stessa armatura Oh stronzo Ma porca merda Oh no Pezzo di merda Pezzo di merda Sì Mamma mia Calmi 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 Ho un cuore Ho un cuore Ragazzi ho un cuore Via 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 Devo rifugiarmi sott'acqua Assolutamente Ok Calmi 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 Ma poi come l'ho chillato Meno male Ragazzi L'unica cosa che Che mi ha salvato È stata la spada di ferro L'unica cosa che mi ha salvato Perché Gli ho Cioè Gli ho fatto Del danno Allora calmi Avevo un cuore Cosa ho detto Avevo Preso del danno Molto più di lui Perché Che cazzo Ok non riesco a parlare Avevo preso molto più danno di lui Perché Avevo Ora spero che il microfono sia attivo Perché se no mi incazzo Avevo Mi aveva tirato la freccia Quindi Voi non capite quanto Io abbia Avuto culo Spero che cazzo Al deathmatch Non ci siano due Pezzi di merda in team No No C'è Mandog C'è Mandog Uh No aspetta Ma un po' Gelo Aspetta Aspetta Ho visto Mandog Che c'è la spada di legno Oh pezzi di merda No 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 Che cazzo è successo Ma hanno attaccato in due Sti bastardi LOL Ma no Vabbè Vediamo come finisce sta Bastardo Mandog Grande Bocce Grande Bocce Mandog C'è la spada di inferno Grande Bocce Brava Brava Bella partita GG E Niente Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti